O Roma e più verrebbe da dire Rizzo perché il Pescara si è giocato tante chance, non può più fallire. Sì, sì, questa è una partita fondamentale, non lo sappiamo, e andiamo a poter battagliare per fare risultato. Secondo te cosa non ha funzionato finora? Niente, ho fatto delle belle partite e poi alla fine ci siamo un po' rilassati, no rilassati, abbiamo preso dei gol stupidi, però adesso siamo più concentrati, abbiamo capito i nostri errori e quindi siamo più determinati. C'è questa novità con Zappella probabilmente nel ruolo di Mezzala al posto di Memu che è squalificato, cosa cambia tatticamente come tipologia di giocatori? Niente, Zapp è un esterno, un quinto, può fare anche la Mezzala benissimo. Niente, penso che farà una grande partita Zapp e spero di fare un grande risultato a Ponte Terra. Inizio come sta? Bene. Quanto deve crescere ancora? Ancora un po' fisicamente devo migliorare, però stiamo lavorando e spero di arrivare in piena forma il prima possibile. Presidente, chiudiamo, ha detto parlare di primo posto ora è utopia, però dobbiamo cambiare marcia. Per forza, la Reggiana e Modena vanno forti, anche le altre, quindi noi pensiamo partita per partita e dopo vediamo cosa succede.